Chiudiamo con un servizio di Lorenzo Chierici sulla ginnastica ritmica. Grande successo per Vittoria Benedetti tra le atlete di punta dell'SGR Ginnastica Reggiana che nella splendida cornice di Carole in provincia di Venezia ha ottenuto un eccellente secondo posto al campionato interregionale individuale Gold Junior Senior Zona Tecnica 2 guadagnando il pass per i nazionali di ginnastica ritmica. Vittoria si è esibita con un'eccellente performance alle clavette, al nastro e alla palla risultando tra le migliori in assoluto. La tappa di domenica scorsa prevedeva il concentramento delle migliori ginnaste selezionate in Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige. Nella categoria Junior 2 Vittoria Benedetti è andata in pedana per l'SGR Ginnastica Reggiana accompagnata dalle allenatrici Patrizia Maccaferri e Silvana Valcavi e al termine di una prestazione praticamente perfetta si è qualificata come vice campionessa interregionale guadagnando il pass per la finale nazionale che avrà luogo dal 28 al 30 ottobre a Pescara. Vittoria è stata bravissima, ha commentato a fine gara la professoressa Valcavi ma è stato eccellente tutto lo staff tecnico che ha contribuito ad ottenere questo prestigioso risultato. siamo veramente fieri di lei e di tutti loro.